buongiorno bianconeri siamo a mercoledì 8 settembre 2021 ci sono un paio di cose che vi volevo dire come premessa questo video oggi sono dieci anni di vita dello juventus stadium quindi la juventus è in festa per questa per questo evento e poi ne parleremo magari più approfonditamente ripercorremo ripercorreremo insieme la storia degli stadi della juve è una cosa molto interessante che spero di riuscire ad organizzare presto per voi in un video la seconda notizia di oggi è che questa sera la nostra nazionale giocherà la terza e ultima partita di questa pausa nazionale inutile dirvi che dobbiamo assolutamente vincere sperando che la svizzera non faccia poi punteggio pieno nella sua gara per tenerla un po distante veniamo a noi abbiamo un'emergenza ragazzi per la partita di sabato napoli juventus sapevamo già di avere la defezione di tutti i sudamericani soprattutto perché non sarebbero mai tornati in tempo e così sarà il problema è che ora dopo ora la situazione sta peggiorando vi spiego ieri un magistrato un giudice napoletano ha dimezzato la squalifica di osi man che era di due giornate a una sola giornata quindi osi man sarà abile e arruolato per la partita contro la juventus nel frattempo lorenzo insigne per motivi personali ha lasciato il ritiro della nazionale quindi è già tornato a napoli molti juventini stanno già gridando al complotto io evito di farlo perché la partita me la voglio giocare in campo e quindi evitiamo di fare pianistei inutili la notizia purtroppo brutta di oggi è che federico chiesa dovrebbe lasciare nelle prossime ore il ritiro della nazionale per un problema al flessore quindi già eravamo in emergenza perdere anche federico chiesa sarebbe veramente una mazzata importante non solo per il napoli bisogna ovviamente capire l'entità di questo infortunio capire la gravità e poi riflettere insieme delle conseguenze certo che perdere chiesa in questo momento molto delicato della nostra squadra è un grosso problema sabato sicuramente mancheranno paolo dibala alexandro e danilo impegnati nelle partite delle nazionali mentre dovrebbe essere invece disponibile mccanny cosa è successo a mccanny praticamente ha violato delle norme anti covid si diceva perché è sceso dal pullman senza mascherina è andato a farsi a firmare degli autografi avvicinandosi quindi ai tifosi senza avere la mascherina per questo è stato sospeso dalla nazionale americana la verità sembra essere un po' diversa sembra invece che sostanzialmente sia andato a letto con la sorella di un calciatore dell'america ok di un suo compagno di squadra questo è quanto trapela da giornalisti americani non so dove sta la verità non so se fagli un applauso a mccanny oppure sgridarlo io diciamo che come vi ho già spiegato in un mio precedente video non sono un moralista quindi di queste cose me ne frega il giusto mccanny sarà sicuramente a disposizione per la partita di napoli diversa la situazione di bentancur che ha subito un infortunio con l'uruguay e quindi secondo me non dovrebbe essere in grado di giocare sabato emergenza totale però non demordiamo nel senso che dobbiamo assolutamente fare risultato fare punti ritrovare equilibrio ritrovare subito la nostra il nostro percorso giusto abbiamo iniziato malissimo questo campionato non ci dobbiamo attaccare a delle scuse degli assenti la juve secondo me comunque ha la possibilità di schierare degli 11 in campo di tutto rispetto e quindi anche se a pochissimo tempo massimiliano allegri deve avere assolutamente il nostro supporto per per ottenere il massimo risultato possibile in quel del diego armando maradona di napoli ricordando che poi pochi giorni dopo giochiamo in champions league col malmo e poi il weekend dopo col milan sarà una settimana importantissima per la juve quindi tutto il nostro tifo deve essere concentrato sul sullo sperare il bene della nostra juve che ha sicuramente bisogno del nostro supporto sta vivendo un momento difficile le notizie di oggi non sono confortanti uniamoci nel nostro tifo ci vediamo molto presto e sempre forza juve